buonasera a tutti guerrieri e benvenuti in questo nuovo video siamo in appennino tosco miliano la luna è spettacolare stasera vediamo se incrociamo anche qualche animale via round 3 abbiamo preso tre cerbiati sotto all'altezza di chiozza piccolini tra l'altro siamo a zero gradi centigradi sul san pellegrino l'alpe ragazzi la neve viene allevata tanta qui c'è vento forte tra l'altro meno due gradi siamo in cima al trenale siamo entrati in provincia di modena inizio Emilia Romagna guerrieri inizio Emilia Romagna inizio Emilia Romagna